Per questa salvezza l'ha giunto. Martone cosa pensi di quest'anno? Com'è andata? La mia è una parte a Dinolfi che non mi ha piaciuto tanto. Ma Dinolfi chi? Il Cavaliere? Il Cavaliere. Ah ok lui. Il Cavaliere non è tanto male. Pezzo di ragazzo di merda. Una panoramica. I giovani, i giovani. Qua è Maddalena, detto virus, ha preso 8 raffreddori solo ad aprile. Raccontaci un po' della tua annata, Maddalena. Quanto hai giocato? Hai giocato poco, ma quanto ci sei stato importante? Mi sono fortunato spesso. Pagno di alti e bassi. Mi sono comunque a testa alta. Perché alla fine è venuta fuori il vero gruppo. Grazie, Marta. Grazie, Marta. Ecco qua Jacopo. Jacopo oggi è entrato. Ragazzo che se ci fosse di più sarebbe importante. Però ragazzo, cosa ne pensi di quest'anno? Com'è andata per te? Grazie a tutti i compagni. Grazie a tutti i compagni. Grazie a tutti.